Un uomo di 59 anni ha perso la vita martedì sera in un drammatico incidente stradale sulla A7 tra i caselli di Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava l'uomo, per cause in fase di accertamento, avrebbe sbandato schiantandosi contro un mezzo pesante, uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo al 59enne, morto sul colpo. L'allarme è scattato poco prima delle 22, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto il corpo senza vita dell'uomo e della polizia stradale di Assago che sta ricostruendo la dinamica del drammatico incidente. Durante la notte, tra martedì e mercoledì, sono proseguiti gli accertamenti per verificare il possibile coinvolgimento di altri mezzi nello scontro avvenuto lungo la carreggiata nord dell'autostrada 7 Milano-Genova tra bere guardie d'Assago.